Un progetto di riqualificazione complessivo che va nella direzione di promuovere e valorizzare i beni monumentali e storici della città. Alle 21 e 30 del 19 luglio taglio del nastro alla presenza del Comune, delle ditte incaricate dei lavori insieme ad alcuni cittadini, della nuova pavimentazione dell'impianto di illuminazione a LED che costeggia la parte bassa del Bastione Sangallo. L'intervento si è reso necessario a causa del degrado diffuso del manto pedonale precedente dovuto per lo più a cedimenti del fondo che hanno determinato irregolarità del piano e avvallamenti. Per quanto riguarda la pavimentazione ricordiamo che c'era una pavimentazione in cocciopesto ammalorata che si era ammalorata purtroppo velocemente. Oggi è stata sostituita con della pavimentazione in ghiaia lavata e come vedete anche tutta la cinta muraria del bene è stata illuminata con un'illuminazione scenografica che scende su tutta la facciata e la valorizza al meglio. Oggi naturalmente tutto quello che è un po' l'effetto scenografico non viene valorizzato al meglio perché dall'altra parte della strada abbiamo dei lampioni a luce rossa che inficiano un po' la luminosità ma da settembre quando verrà appunto fatto il relamping all'interno di tutta la rete luminosa sicuramente riusciremo a vedere quello che effettivamente sarà tutta la dinamica di questo effetto scenografico che è stato scelto per questo tipo di impianto. E il 31 di luglio alle ore 21 e un quarto vi aspettiamo proprio all'interno di questo bene perché saremo pronti a presentarvi il progetto di rifunzionalizzazione di questo bene proprio perché andremo a presentare alla città quello che i nostri tecnici hanno pensato per far sì che il progetto sia accessibile in tutte le sue parti. Inoltre, ha aggiunto Brunori, verranno inseriti in un secondo momento dei nuovi faretti che andranno ad illuminare la cuspide della fortificazione rivolta ad est, ovvero quella verso la stazione. Costo totale dell'operazione 220 mila euro, già visibili da ieri sera invece i giochi di luce che andranno a caratterizzare l'intero bastione. Abbiamo ridato dignità a questo spazio da quando sono stato eletto, tante lamentele richiedevano una riqualificazione di questo percorso pedonale che è anche l'ingresso verso la stazione e devo dire che con questo bel intervento a cui abbiamo aggiunto anche l'illuminazione per dare valore rendono ovviamente questo scorcio di città più bello. Sono tutti interventi che vanno ad abbellire la nostra città. Il decoro è un aspetto importante, usufruire anche gli spazi vicino alle strade è un aspetto importante e poi lasciatemi dire all'esterno delle mura, agli ingressi della città diventano anche un biglietto da visita. Fano deve diventare sempre più bella per chi la vive ma anche per chi la viene a visitare.